Buongiorno, sono il dottor Zani, tecnico della cooperativa AIPOL, la cooperativa che rappresenta gli olivicoltori della Lombardia. Adesso vediamo con questo video l'epoca della potatura, quindi quando è il periodo ideale per potare. La potatura convenzionale in genere si fa alla fine del freddo, quindi nel periodo primaverile. Nei climi più caldi si può potare anche durante l'inverno, ovviamente bisogna essere sicuri però che non arrivi il gelo, altrimenti la pianta può essere sottoposta a gravi danni da gelo e compromettere la chioma, il tronco o addirittura la vita dell'intera pianta. Nei climi un po' più freddi, dal centro nord in su, assolutamente è vietato potare durante l'inverno ma bisogna aspettare che il gelo termini, quindi parliamo del periodo di marzo-aprile come epoca ideale per la potatura dell'olivo ed è assolutamente vietato e sconsigliabile potare durante la raccolta, in quanto la raccolta in genere si attua nel periodo di ottobre-novembre, quindi è precedente all'inverno e se arriva ad un inverno freddo è pericoloso appunto per la sopravvivenza della pianta. Esiste un altro periodo di potatura, in genere chiamato potatura verde, questa è attuata nei periodi estivi di luglio-agosto fino a metà settembre e non oltre perché poi porteremo la pianta verso il periodo autunnale quindi avremo problemi con eventuali gelate e quindi in questo caso si può operare il taglio dei polloni e dei succhioni che sono i rami vegetativi che non portano le olive e quindi non servono alla produzione della pianta. Con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video.